Bene ragazzi, ciao a tutti, sono Alex7C90, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, qua siamo di nuovo su Fallout 4, come sempre. Oggi andiamo a fare un'altra missione per quanto riguarda il reload. Nella prima missione abbiamo consegnato questo pacco che sarebbe stato un sintetico che è scappato dall'istituto. Ora dobbiamo fare una missione di conoscimile, vediamo. Si chiama la missione Conta dei caduti. Vai al nascondiglio. Ok, andiamo al nascondiglio e vediamo un po' che cosa succede qua. Guardate ragazzi che cosa ho trovato. Cambiamo il fucile perché il mistero è un fucile potente. Ho trovato qualcosa di allucinante. Spero di non morire, perché se no mi dispiace davvero tanto. Nooo, sono morto. Sono morto, però so come ritrovarlo ragazzi, non vi preoccupate. Adesso lo ritroviamo. E punterò a ucciderlo, bastardo, moledetto. Bene, guardate. Nooo, cazzo, non mi sono dimenticato di usare il steam pack. Curiamoci prima possibile. No, non mi sono. No, mi sa che mi ha uccidito Dai ragazzi che Forse, dico forse Ce la facciamo E' quasi morto Mamma mia Eh ragazzi ce l'abbiamo fatta Cazzo, sai Avete visto come è morto Carne, sangue Queste me le posso vendere Sì ragazzi Salviamo subito Avete visto come l'ho massacrato E' stata una dura battaglia Ma non è durata neanche più di tanto Adesso andiamo a continuare La missione che stiamo per fare Ok ragazzi eccoci arrivati Siamo pronti Metropolitana centro-medico Trovato il rapporto di Augusta Ok Il nascondito l'abbiamo trovato L'abbiamo preso E questo determina lo stato del rifugio Di Augusta Vediamo nella mappa dove Dove si trova Dove si trova Là Ok Ci andiamo a piedi dai Fatemi compagnia in questo viaggio In una notte buia e piovosa Ok siamo qua Corriamo corriamo Così facciamo prima Così facciamo prima Speriamo di non incontrare Nessuno che rompa più di tanti coglioni Ok Ok stiamo correndo Più che possiamo Salviamo ogni volta Perché se no È un casino Corriamo 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 Finchè Non voglio dire troppe parole Corriamo 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 E allora Indiciamolo Ormai Che prego Cic Corriamo Ammazziamo Anche te Sapevo che Gli cui Smi Enche tu brutta troia anche tu morirai morirai presto morirai presto ecco ti cuore dammi le munizioni che ne servono ora ragazzi trovo più munizioni nei contenitori ovunque perché mi sono aumentato l'abilità che ti fa avere più munizioni intanto mi servono le munizioni ovviamente in questo gioco se si punta a usare le armi non con le mani se si usano le armi ovviamente le munizioni servono e vi dico che in questo gioco ce ne servono davvero poche quindi il mio consiglio è quello di sbloccare questa abilità ora ve lo faccio vedere così se ancora non lo sapete andate a farlo quando salete di livello ecco la qua scroccone dice trova ancora più munizioni nei contenitori questa sarà fatta al massimo troverete un sacco di munizioni nei contenitori ok allora questo dovrebbe essere dall'altra parte devo trovare il ponte il ponte è di qua allora ragazzi eccoci qua siamo quasi arrivati 90 metri e siamo arrivati qua abbiamo nemici in corte scusate ma devo prima uccidere questi nemici ok dopo che siamo liberati di questi cacacazzo ce ne manca un altro che non so dov'è nel frattempo non ci vado a vedere che ci si può uscire la pompa e ci prendiamo un po' di roba da questo e nel frattempo andiamo a farci la nostra bella missione ok 30 metri 30 metri l'entrata dovrebbe essere qua vicino se non è qua passiamo di qua eccola qua oh finalmente ci siamo eccoci qua vediamo un po' si trova sopra nel frattempo vediamo se c'è qualcosa che è utile giucazzo perché mi sa che qua ci sono andato da poco quindi non c'è nulla di nulla infatti è già tutto aperto perché ho già fatto io la missione qua ci sono già stato per i cavoli miei spero che non si crei nessun bug dato che ci sono già stato sto cercando il piano di sopra scusate scusate cerco il piano di sopra forse era da qua che si andava se non ricordo male si ci si è stato proprio da poco in questo posto guardate è un ospedale abbandonato è abbastanza inquietante come il posto un po' così ok qua c'è ehi qua c'è qualcosa 33, 32, 31 ci siamo quasi forse dopo andiamo all'ascensore forse anche se lui mi cerca questo piano però io non trovo un cazzo a questo piano vediamo ok ecco il punto dobbiamo arrivare qua giù quindi per arrivare qua giù scendiamo di qua saldiamo di qua ed eccoci qua ultimo giornamento rifugio Augusta ok lo stato di rifugio torno al dottor Carrington ok ragazzi ok allora il problema è questo ve lo dico subito che cosa è successo praticamente io sono già stato da poco in questo posto proprio ieri esattamente ho già ucciso qua è strapieno e vi dico che è proprio strapieno a nemici che sono solamente predoni quindi è come se avesse già fatto questa missione praticamente perché voi dovevate entrare qua dentro uccidere una marea di predoni e poi recuperare questi appunti qua io avendolo già fatto è la stessa cosa solo che la missione non l'avevo ancora fatta adesso mi sono ritrovato già tutti i predoni morti e quindi la strada ce l'ho avuta bella libera ok adesso andiamo dal dottore così concludiamo la missione e ci possiamo salutare allora ragazzi dopo una lunga camminata eccoci qua siamo arrivati alla conclusione di questo video di questa missione e adesso ci adesso vediamo se la missione è finita ma penso proprio di sì ho fatto tutto quello che mi hanno chiesto quindi penso che la missione sia finita allora lo vediamo dopo il caricamento Pama ha bisogno di te nella sua stanza eccoci qua c'è questo eccoci qua il rifugio Augusta è stato distrutto dall'istituto come temevo con questo sono tre rifugi perduti stento a crederci per ora non ho altro da dirti ma di sicuro c'è qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto con tutti i problemi che abbiamo ok ragazzi e anche questa missione l'abbiamo terminata ci vediamo nel prossimo video sempre fallout e adesso vediamo se continuare questo tipo di missioni non ne facciamo altre ok vi lascio ciao a tutti ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi e iscrivervi per bruciare questo nascondere